Con il tuo 5x1000 aiuti Soccorso Clown a donare magia e sorrisi a bambini e anziani ricoverati in ostedale. Da 25 anni siamo gli specialisti della clown terapia in Italia. 40.000 bambini e 1.000 anziani visitati ogni anno. Dona il tuo 5x1000 a Soccorso Clown. Firma per un sorriso. Clown, vi aspettiamo!